Ciao, sono Claudia di Idee Giovani Carta Carbone Festival e per la rubrica C'è Tempo volevo appunto darvi tre consigli, un film, un libro e una canzone. Il tema che ho scelto oggi è la distopia. Perché la distopia? La distopia secondo me ha molte volte raccontato al meglio la realtà che ci circondava. Perché come la cita Wikipedia è la descrizione della realtà immaginaria o di una realtà immaginaria ma prevedibile sulla base delle tendenze del presente. Come primo suggerimento appunto volevo darvi The Lobster di Yorgos Lantimos, un regista da me molto amato. E appunto questo film prende molto in giro le convenzioni sociali in cui molte volte siamo coinvolti. Quindi il vederci sistemati, il vederci con famiglia e guardare a molte volte male le persone che magari non scelgono questo tipo di vita come tutti gli altri. Come secondo suggerimento non potevano nominare 1984 ovvero 1984 di George Orwell che è un film che molto probabilmente ha anticipato al meglio la realtà che ci circonda in questo momento con l'avvenimento dei social network. Abbiamo anche l'introduzione del grande fratello e di come siamo sempre osservati in qualche modo nel periodo di oggi. Come terzo suggerimento mi collego nuovamente a 1984 con una canzone di David Bowie, uno dei suoi primi singoli, ovvero Diamond Dogs del 1973. E come posso dirvi non vorrei aggiungere altro perché se non avete ancora ascoltato David Bowie beh dovete ovviamente iniziare a recuperare un bel po' di discografia. Vi mando un bacio e vi saluto. Grazie a tutti. Grazie a tutti